ciao e benvenuto in questo nuovo tutorial oggi siamo all'esterno come potete vedere dalla location nuova maglia zino bianco oggi ragazzi ci occuperemo di un altro piccolo tutorial che è la calibrazione della gimbal si la calibrazione quella che serve quando la gimbal comincia a battere comincia a tremare oppure dopo aver sostituito delle flat si fa quando si può erroneamente sbattere con lo zino su un albero quando lo zino cade può succedere anche semplicemente un atterraggio un po duro lo zino incastra l'elica nell'erba si cappotta mentre la gimbal è accesa e può andare fuori calibrazione noi adesso andremo a fare questa calibrazione e renderemo tutto abbastanza semplice sì perché la procedura ragazzi non è così drammatica bisogna soltanto stare attenti a vari passi che io vi spiegherò uno ad uno quindi non ci perdiamo un chiacchiere e andiamo a vedere nello specifico di cosa parliamo come prima cosa per effettuare la calibrazione avremo bisogno dello zino la batteria para gimbal tolto cavo micro usb e un pc sul pc andrà caricato e lanciato il programma zino gimbal tool e a quel in quel momento una volta connesso lo zino potremmo cominciare con i vari passi in questo momento potete vedere all'interno della finestra comparsa sul pc varie opzioni in fila in alto noi andremo ad accendere la prima sulla sinistra che si è che calibration gyro ossia la calibrazione del giroscopio interno dello zino questo farà sì che lo zino potrà riconoscere la posizione del drone stesso rispetto alla gimbal per poter stabilizzare quindi andiamo a dare start e compariranno tre numeri x y z e questi numeri li gireranno una volta terminata questa funzione automaticamente lui dirà finish se qualche volta vi compare l'errore time out error niente paura lo ripetete poi si passa alla funzione successiva che è calibration all una volta accesa la funzione calibration all in basso comparirà la scritta state 2 noi andremo a dare start e questo state 2 come lo facciamo diamo di nuovo come ho detto come ho detto diamo il comando start andiamo a prendere la cam la alziamo fino a fondo corsa in alto un paio di secondi e la abbassiamo a fondo corsa un paio di secondi e la alziamo a fondo corsa un paio di secondi di nuovo a fondo corsa verso il basso e la lasciamo diamo next e comparirà state 6 lo state 6 ci chiederà di fare questo prendiamo con la mano la gimbal verso sinistra la incliniamo così in alto due secondi poi la incliniamo alla parte opposta per due secondi di nuovo due secondi di nuovo due secondi la portiamo in questa posizione e andiamo a dare next comparirà state 10 nello state 10 andremo a fare la rotazione della gimbal così verso sinistra fondo corsa delicatamente due secondi parte opposta due secondi parte opposta due secondi parte opposta due secondi la riportiamo in questa posizione e diamo next automaticamente l'operazione sarà finita subito dopo andremo a fare l'altra iconetta a fianco calibration MC e line cosa succederà? lui automaticamente andrà a fare tutte quelle posizioni che abbiamo fatto noi con la gimbal compresa la cam ma in maniera automatica quindi in quel processo noi non dovremo intervenire non dovremo fare niente farà tutto automaticamente finita questa procedura automatica daremo calibration ENC scritto ENC andremo ad inserire il paragimbal sulla cam dello zino la cam deve essere rivolta verso l'alto quindi attenzione quando lo montiamo ve lo mostro più da vicino dovreste riuscire a vederlo diamo start e anche qui automaticamente la procedura finirà in un paio di secondi se tutto va bene lo ripetiamo diamo di nuovo start finita l'ultima funzione automatica cosa andremo a fare andremo a dare calibration ACC ho scritto ACC che è l'accelerometro interno dello zino a lui servirà questa funzione per riconoscere tutti i lati anche sopra e sotto del drone stesso quindi diamo start e compariranno sei grandi numeri all'interno della nostra finestra sotto ci saranno altri serie di numeri che gireranno in continuazione quindi lasciando lo zino perfettamente orizzontale sul tavolo si accenderà intanto uno dei numeri una volta acceso questo lo metteremo sul lato sinistro perfettamente verticale non sbagliamoci un acceso un altro numero lo mettiamo a testa in giù sempre perfettamente perpendicolare al al tavolo si è acceso un altro numero lato destro si accende un altro numero a testa in su e accendiamo un altro numero l'ultima fase è quella del drone a testa in giù dovremmo tenere perfettamente come vedete la pancia piatta ed ecco qui si è acceso il sesto numero ora andremo a riadrezzare lo zino scollegheremo il cavo micro usb andremo a togliere la para gimbal sfideremo la batteria e la rinfileremo ora la calibrazione sarà andata a buon fine scopriamolo subito guardate un po' gimbal perfettamente stabilizzata qualcuno si potrebbe anche chiedere ma tu la calibrazione a questo drone l'hai fatta prima beh sì l'ho fatta poco prima di questo video perché ho dovuto mettere un posto sul mio gruppo dove spiegavo che questo drone da questa parte non stabilizzava più purtroppo era un problema di una flat ho sostituito quella flat ho fatto la calibrazione esattamente come vi ho fatto vedere passo dopo passo e come avete visto nel video il drone adesso stabilizza perfettamente quindi la procedura di calibrazione ragazzi è finita come avete visto è semplicissima bisogna solo stare attenti ai passi quando andiamo a ruotare la gimbal e quando andiamo a fare acqua quest'altro lavoro delicatamente fine corsa ma delicatamente non andiamo a forzarla perché la scrocchiamo detto è romano quindi adesso passiamo ad altre considerazioni una piccola cosa che ho dimenticato di evidenziare quando all'inizio del video dico la calibrazione dalla app non intendo dall'applicazione del cellulare quella è una piccola calibrazione che si può fare quando a volte sia all'orizzonte leggermente storto a causa del vento oppure un piccolo impatto sul terreno a volte si recupera così ma quando io dico calibrazione dalla app ragazzi intendo dal pc e con l'applicazione come ho detto zino gimbal tool con quella andremo a fare questa calibrazione quindi scusate del piccolo errore può capitare che andiamo a fare la calibrazione e il drone non risponde ad esempio continuamente time out error oppure non riesce a fare la calibrazione come si deve oppure la gimbal trema leggermente oppure non stabilizza da una parte in quel caso ragazzi ripeteremo un paio di volte la calibrazione se questa non va a buon fine non ci gettiamo nella disperazione nel panico sarà sicuramente un problema di flat come faremo a saperlo beh ci vorrà un po d'esperienza chi è iscritto al mio gruppo sicuramente avrà supporto ci saranno i consigli miei dei moderatori di tutti gli iscritti ragazzi siamo diventati a proposito 1500 nel momento in cui sto registrando questo video quindi orgogliosamente vi posso dire che in questo gruppo abbiamo tantissimo supporto c'è il modo di capire come c'è il modo di agire prima di sostituire una flat queste però sono cose che andremo a vedere un'altra volta abbiamo visto come si effettua la calibrazione abbiamo visto che la nostra gimbal stabilizza ora non resta che andarla a provare in volo quindi ragazzi per questo tutorial è tutto quanto io vi saluto vi lascio in descrizione tutto quello che serve quindi la app da scaricare il gimbal cover tool è quello trasparente che vi ho fatto vedere dove comprarlo e per il resto è affidato tutto quanto alle vostre mani ciao e alla prossima